La fibra nell'area Frentana corre con il treno. Tua e Fastweb infatti hanno siglato un accordo che consentirà il passaggio della fibra ottica per il collegamento a banda larga lungo la linea ferroviaria della Società Unica del Trasporto Regionale. La fibra arriverà così nel comune di Lanciano in Val di Sangro, consentendo da un lato il collegamento alla rete veloce per famiglie d'imprese, dall'altro l'implementazione degli strumenti informatici per il telecontrollo lungo la linea ferroviaria di Tua. Senza questo coinvestimento e questa iniziativa comune con Tua, probabilmente questo territorio avrebbe dovuto attendere ancora qualche tempo prima di vedere investimenti su tutta l'area del digitale. Invece stiamo procedendo rapidissimamente a concretizzare un salto di sviluppo, un salto di innovazione che sarà molto importante per tutto il territorio di Lanciano. Il tutto senza costi per la Società di Trasporto della Regione Abruzzo. Ulteriori vantaggi si hanno per il sistema ferroviario vero e proprio, perché la possibilità di avere un collegamento dati lungo la linea ferroviaria permette di mettere in atto delle tecniche di controllo del traffico ferroviario, soprattutto sul ramo merci, che a loro volta aumentano la capacità di traffico e quindi di portata merci sulla linea, e inoltre di efficientare il controllo, per esempio, delle sottostazioni elettriche, piuttosto che dei sistemi di stazione.